Eric, volevi tanto il gol, l'hai fatto? Un importante gol per me, per squadra, perché di primo gol l'ho fatto in primo tempo, non lo so di signore, no gol. Per me molto felice di seconda gol l'ho fatto, perché 3-1 di partita, sono una squadra forte, 3-1, un bene risultato di 20 minuti più in partita. Era importante vincere oggi? Sì, molto importante, noi è una squadra bene, sempre questa settimana, meglio, a tutti sono molto felice questa partita. A chi dedichi il gol? A tutti in Nardò, a tutti in Nardò. Grazie.